Qui è Henry di Aquafortis Astrology e queste sono le previsioni generali per la settimana che va dal 21 al 17 di ottobre 2019. Cominciamo la settimana, il 21 di ottobre 2019, alle 14.39 ore locali quando la Luna Ancancro litiga col Sole in bilancia. La Luna Ancancro vorrebbe che il Sole in bilancia pensasse più a quello che sta sentendo, ma il Sole in bilancia è così preso da essere garbato che non riesce a capire tutto sto casino. La Luna si sente trascurata e non presa in considerazione come vorrebbe. Non scoraggiatevi, cominciate con il prendere cura di voi stessi. Immediatamente siamo presentati con l'opportunità di farlo. Vi ricordate la scorsa settimana quando Mercurio in scorpione si ubriacò con Nettuno in pesci? Bene, ora questa settimana tocca a venere in scorpione di bere dalla pozione allucinogena di Nettuno. Scapperanno insieme il 21 di ottobre 2019 alle 21.39 ore locali. La scorsa settimana abbiamo sentito pensieri da mondi paralleli. Questa volta sentiremo e potremo portare insieme dei mondi che normalmente fanno cazzotti fra di loro. Pianificate del tempo per voi stessi, dove potete stare con il vostro sentire. Avrà tanto da dire e quello che ha da dire molto intenso. Considerate anche il fatto che normalmente questo sentire è fuori dalla nostra portata, ma che diventa possibile, disponibile di farlo, di metterli insieme solo grazie a Nettuno in pesci che erode tutti questi confini. È un buon momento per prendere cura di noi stessi e sentire parte di noi che normalmente non sappiamo che esistono. Dopo manco un'ora il 21 di ottobre 2019 alle 22.19 ore locali, abbiamo Marta in bilancio che sbatte le corna con i nodi lunari. Andate indietro alla stagione degli eclissi, a luglio 2019. Cosa avete cominciato in quel periodo? Qual era la motivazione che vi ha fatto scattare ad iniziare qualcosa in quel periodo? Ora è giunto il momento di chiedersi se quella motivazione è ancora valida. Se sì, come possiamo mantenerla forte? Abbiamo bisogno di aggiustare qualcosa per allinearci meglio con quello che abbiamo cominciato allora? Il 23 di ottobre 2019 alle 19.19 ore locali il sole, molto volentieri, lascia la casa della bilancia ed entra nella casa dello scorpione. E a proposito, buon compleanno scorpione! Quando il sole entra al scorpione, la nostra attenzione sulla vita diventa motivata nell'affermare noi stessi ma più dall'interno che dall'esterno. Lo scorpione è governato da Marte che si muove nelle ombre. È un Marte molto introspettivo, le emozioni sono molto vivi e le emozioni vengono usate per centrare un obiettivo che non molleranno più. La nostra attenzione ora si sposta su cose meno visibili. Sì, certo, c'è comunque la voglia di affermare se stessi ma è più da servizi segreti che da gladiatori nel Colosseo. Il 25 di ottobre 2019 alle 11.52 euro locali veneno in scorpione incontro Plutone in Capricorno. Quello che la scorsa settimana abbiamo disotterrato attraverso la nostra mente, questa settimana lo faremo attraverso i nostri desideri. Plutone in Capricorno dona a Venere, già una Venere molto determinata, il dono di poter guardare alle radici dei desideri. Plutone non è mai facile perché porta a galla ciò che normalmente viene represso, ma questa Venere in scorpione è molto volonterosa. Cos'è che veramente attizza i nostri desideri? È questo, come ci manipola nel bene e nel male. Il 27 di ottobre 2019 alle 14.30 ore locali Marta in bilancia perde la sua pazienza con Saturno in Capricorno. Marta in bilancia non è assolutamente contento, con molta fatica sta provando ad avere pazienza di comportarsi e di agire in modi che normalmente non farebbe. Ma l'unica cosa che riesce ad ottenere è un gran bruciore di stomaco. Quello che vorrebbe veramente fare è dirla così com'è senza fronzoli. E Saturno per l'ennesima volta gli dice, caro Marte, se non cambi dattica io ti continuerò a bloccare. Questa è una lezione che devi imparare. Ti piace o no? Punto? Basta. Quando Saturno e Marte dialogano non è mai un discorso facile. Sia Saturno e Marte rappresentano cose che normalmente non ci piace fare nella vita. Se non proprio costretti, eh? Saturno rappresenta i limiti, Marte rappresenta l'energia di separare cose, così possiamo diventare individui. Quando questi due se la stanno dicendo di santa ragione, tutto questo diventa ancora più grande. L'ultima parola però la ha Saturno. Ma ovviamente Marte non concederà vittoria senza una lunga battaglia. Quando avete un dubbio di come agire, chiedetevi qual è il vostro più oggetto a lungo termine. Questa azione che fate ora vi aiuta o no a lungo andare. Se questa azione non vi aiuta, è meglio che date retta a Saturno e poi andate in palestra a svogare la vostra frustrazione. Vi suggerisco per il 27 di ottobre 2019 di non andare a fare cose temerarie. Non andate a sfidare la vostra buona sorte in comportamenti incauti. Non finirebbe bene. Ricapitolando, Marte e Venere, ognuno di loro a suo modo, sono molto attivi in questa settimana. Con Marte esploreremo le nostre motivazioni, se sono ancora in grado di aiutarci nel nostro viaggio lungo una vita. Probabilmente dovremmo morderci la lingua, darci una calmata. Tutto un nome di qualcosa più grande di noi. Con Venere scoveremo ciò che sta alla radice dei nostri desideri, più nascosti e profondi, che poi, a loro volta, influenzano le nostre azioni. Capire quali sono ci può portare a completare un'altra parte di noi. Allora, cosa ne pensate di questa settimana? Cosa è successo durante il periodo dell'eclissi che ora dovete rivedere in un altro modo? Se avete bisogno di consiglio di come navigare queste energie, sono disponibili per delle consulenze private. E prima che andate via, ricordatevi di dirmi cosa ne pensate, pollice in su, condividete e sottoscrivete la pagina. A presto e buona fortuna! Ciao ciao!